Ci sono anche altri geni che vengono attivati a una dieta low carb, soprattutto i geni richiesti per l'attivazione delle cosiddette cellule natural killer, dei serial killer positivi che uccidono i virus e anche le cellule del cancro nel nostro corpo. La terapia del cancro con una dieta ketogenica viene detta terapia metabolica perché praticamente si taglia il carburante alle cellule di cancro. Inoltre dal momento che i grassi sono un carburante più efficiente, che producono meno stress ossidativo per molecola che viene bruciata per produrre energia, la dieta ketogenica viene anche consigliata per abbassare l'infiammazione cronica, che è purtroppo un denominatore comune di tante tante patologie.